Lei ha scoperto la variante di un gene direttamente collegato alla longevità? Sostanzialmente lui e il suo team hanno scoperto una variante genica di questo gene che si chiama FOXO3, il quale è in grado, se ben rappresentato nel genoma, quindi nel DNA, di duplicare o addirittura di triplicare le possibilità di durata di vita. Quindi quali sono le ricadute in termini di qualità di vita? La possibilità di avere questo fattore protettivo consente di non solo allungare la vita ma di vivere più a lungo in uno stato di salute perché il primo effetto di questo allele è la protezione sul piano delle malattie cardiovascolari e in particolare della coronaropatia. Non tutti però hanno questo speciale fattore protettivo, dunque che cosa si può fare? Non tutti hanno questo fattore protettivo, possono essere fatte delle cose relative al miglioramento della qualità di vita e in particolare esiste anche la possibilità di utilizzare degli integratori particolari, in particolare la curcuma per esempio, gli isoflavonoidi e diverse molecole che possono essere utilizzate quotidianamente e quindi per tutto il resto della vita per cercare di incrementare la protezione naturale che potremmo avere. Disse questi sostanze danno upregulare la funzione del genere.